La collaborazione è la cosa principale, la collaborazione degli enti. Ognuno deve mettere la propria competenza, nessuno deve preparare l'altro. Secondo me, io ho lavorato bene con tanti comuni della provincia di Frosinone e della provincia di Roma. Quando c'è sintonia si lavora bene, non ci sono problemi e i lavori vanno avanti. Se poi ci sta qualcuno dall'altra parte che vuole, allora è chiaro, incominciano gli asti, incominciano le ripicche, non si va a nessuna parte. Secondo me la prima cosa è la collaborazione, si deve lavorare d'equip. Io sono Anna Ciaverdini, sono una consulente della sovrintendenza perché sono un funzionario in pensione. Parliamo dell'importanza che riveste questo accordo nel capoluogo ciociare. L'accordo si inserisce all'interno di quello che è il percorso del federalismo culturale, ovvero la valorizzazione che la norma consente di far rivivere immobili di proprietà dello Stato soggetti a vincolo di demanio storico-artistico. Quindi è un progetto che nasce con un interesse duplice, quello di far rivivere immobili che altrimenti rischiano di non poter essere utilizzati immediatamente e nello stesso tempo valorizzare anche il territorio locale, in quanto è una norma che favorisce l'ente locale il quale ha la titolarità ad acquisirne la proprietà attraverso un intervento di ristrutturazione anche importante soggetto a finanziamenti ben stabiliti e soprattutto soggetti all'autorizzazione da parte della sovrintendenza per i beni culturali che è il titolare delle autorizzazioni di tipo vincolistico. C'è una città che cambia volto, la stazione, ma c'è anche il parco Matusa. A che punto siamo? Sì, sul parco del Matusa stanno andando avanti le lavorazioni per quanto riguarda la perforazione di quella che era la vecchia base in cemento presente all'esterno delle aree del Matusa per eseguire le piantumazioni di qui ai prossimi 15-20 giorni. Quindi siamo sicuri di poter centrare l'obiettivo di avere nella tarda primavera, quindi all'inizio dell'estate questa grande area, questo polmone urbano di due ettari e mezzo che è stato sottratto sostanzialmente alla cementificazione. In passato su quell'area si volevano costruire qualche cosa come 6-7 palazzi quindi si volevano costruire volumetrie pari a 130.000 metri cubi di cemento. Noi al posto di 130.000 metri cubi di cemento stiamo portando avanti circa 130.000 fili d'erba. Ecco questa è una metafora per far comprendere meglio a coloro che fanno parte sia del pubblico che del privato che innovare non significa necessariamente creare nuove volumetrie. Si è soffermato sulla bontà del progetto, che cosa le è piaciuto di più? Mi è piaciuta molto questa trasversalità e questa capacità di proiettarsi verso il territorio. Abbiamo fatto tanti altri accordi di questo tipo sul federalismo culturale, di norma sono chiusi nell'ambito del proprio territorio e questa capacità di proiettarsi verso il contesto territoriale e quindi di offrirsi come facilitatore a livello turistico e quindi anche per far sì che Frosinone diventi quel motore di sviluppo verso il contesto che consente di valorizzare ulteriormente quelle bellezze naturali che nella provincia non mancano assolutamente e che hanno assolutamente bisogno di un punto di riferimento per il turismo, per le agenzie ma anche per il semplice turista singolo che possa essere orientato e guidato verso questo territorio che ancora ha molto da offrire.